cambiamo decisamente argomento parliamo di una cosa che non è una cosa parliamo della cosa parliamo della pizza la gioia culinaria gastronomica di tutti quanti noi il grande patrimonio della cultura enogastronomica napoletana e lo facciamo con barbara guerra buongiorno barbara buongiorno a te che è la co curatrice di 50 top pizza molti di voi la conoscono questa guida perché io così la definisco una guida una guida logicamente 2.0 una guida diciamo non come quelle che siamo abituati forse non è più cartacea ma è tutto online tutto online è una guida molto moderna ma la prima domanda che volevo fare a barbara è proprio questa come si fa a diventare in un mondo dove ci sono 100.000 premi per le pizze 100.000 guide in particolare i premi per le pizze mi fanno impazzire perché ogni volta che giro per napoli e provincia trovo un manifesto di un pizzaiolo che dice che il migliore al mondo perché ha vinto il premio miglior pizza organizzata da zio antonio diciamo se non noi se la fanno su tra di loro invece 50 top pizza è divenuta ormai a come dire unanime accordo tra chi fa la pizza e chi pratica anche il mondo del giornalismo e no gastronomico la manifestazione di riferimento come avete fatto sicuramente il lavoro serio è fatto per dare un servizio al pubblico quindi questa è la prima cosa che diciamo il segreto del successo di 50 top pizza esistono come dicevi tanti campionati tanti trofei tanti tornei sicuramente tra questi ci sono delle cose molto serie ci sono delle altre cose che sono strumenti per creare comunicazione e engagement intorno al mondo pizza spesso si tratta di competizioni in cui si va a preparare la pizza di fronte a una giuria top pizza non è questo top pizza è la guida delle migliori pizzerie del mondo pizzerie quindi noi accediamo nei locali in anonimato pagando il conto partendo da una base di pizzerie che vengono votate dai nostri collaboratori in italia e nel mondo questo meccanismo ci ha creato una reputazione molto importante perché effettivamente noi entriamo nei locali assaggiamo la pizza come clienti normali valutiamo i servizi l'ambiente la carta delle birre la carta dei vini l'amabilità del personale anche la pulizia abbiamo una checklist i nostri ispettori quando accedono e quindi noi riusciamo poi a raccontare un'esperienza ai nostri lettori perché il nostro primo obiettivo è quello di dare informazioni ai lettori che quando si trovano in una determinata città in un determinato posto possono aprire il nostro sito controllare qual è la pizzeria in guida di 50 top pizza più vicina e possono andare in una pizzeria e trovare una bella esperienza al di là no dal primo il secondo il terzo io voglio dare qualche numero 4780 articoli in 38 lingue diverse tra cui il cinese il giapponese l'ebraico e l'indi questi sono i numeri della rassegna stampa dell'edizione 2023 già ti posso dire che l'edizione di quest'anno oggi ancora non abbiamo pubblicato l'ultima nostra guida che è quella che sveleremo il 27 novembre a Londra dedicata alle catene artigianali cioè quelle pizzerie che hanno più di cinque sedi noi oggi al 30 settembre praticamente abbiamo chiuso al mese di settembre la rassegna stampa eravamo a più di 5 mila articoli quindi la rassegna stampa è ancora più alta questo si riesce a fare grazie come ho detto alla grande reputazione che abbiamo verso i media di tutto il mondo che ognuno nel proprio territorio racconta ai propri lettori quali sono le migliori pizzerie pizzerie nel proprio paese che l'autorità italiana sì perché siamo italiani che raccontiamo al mondo quali sono le migliori pizzerie quindi abbiamo una credibilità di base che poi è nutrita anche da un lavoro molto duro sul campo vediamo insieme la premiazione dell'ultimo concorso dell'ultimo premio quello del che c'è stato diciamo alcune settimane fa che ha decretato un vincitore che non è italiano tra o meglio è italiano ma la pizzeria non sta in italia tra quelle migliori al mondo guardiamo il momento della premiazione well do you want to know the name of the best pizzeria in the world are you nervous maybe i can go now live and you wouldn't know the name of the best pizzeria in the world the best pizzeria in the world for 2024 is una pizza napoletana from new york and tied for the second place are diego vitaliano pizzeria in naples and i macanelli di francesco martucci in caserta questo è il podio di world top pizza di quest'anno poi c'è anche quello italiano c'è quello europeo c'è quello asiatico visto è diciamo logicamente un lavoro davvero incredibile in tutto il mondo poi ci spieghi come funziona un podio che vede una pizzeria di new york una di caserta e una invece di napoli la vittoria di questa pizzeria di new york ha fatto storcere il naso a qualcuno ma in realtà più ha suscitato della curiosità nel mondo pizza nessuno ha storto il naso perché è un mondo molto coese una comunità di professionisti che innanzitutto comprende il forte valore di comunicazione per tutto il settore di 50 top pizza e poi perché riconosce comunque in alcuni protagonisti come possono essere martucci e vitaliano che sono stati comunque martucci è stato prima degli altri primo al mondo con vitaliano l'anno scorso con la pizzeria 10 di diego vitaliano è stato a pari merito primo al mondo nel 2022 il fatto che Anthony Mangieri di una pizza napoletana di new york sia quest'anno prima al mondo non ha creato particolare scompicchio perché è un grande professionista con 30 anni di lavoro alle spalle riconosciuto dalla comunità tanti giovani pizzaioli hanno anche scritto su come sottoposto di commento a questa vittoria che avevano iniziato a fare pizza guardando i suoi video di youtube che erano qualcosa insomma di una decina di anni fa più o meno e ha una pizzeria molto bella con un format molto centrato pensa che a new york a manhattan new york immaginate la noi pensiamo che siamo la casa della pizza ed è vero no la patria della pizza ed è vero ma anche i new yorkesi pensano che la loro città sia la patria della pizza quindi in un posto dove è tutto eccesso dove tutto di più dove anche le pizze sono iper cariche di ingredienti se pensiamo alla famosa pizza con l'ananas o la peperoni no con tanto formaggio salame piccante come come farcitura noi abbiamo un modello quello di una pizza napoletana che è quasi esaggetico sulla margherita e la marinara dove in quella pizzeria ci sono un po di aperitivi per iniziare una bellissima carta di 6-7 pizze tutte declinate sul tema molto del pomodoro che l'idea che la pizza venga bene solo a napoli questa è un'idea un po antica per l'aria per l'acqua napoli è la casa della pizza la pizza napoletana è assolutamente un un prodotto d'eccellenza quando è fatta a napoli ma anche le pizzerie napoletane fuori dall'italia fanno dei grandissimi lavori quindi non questo primato non non si tocca l'origine qua ma abbiamo anche delle ottime pizzerie nel resto del mondo che spesso sono quasi al 99 per cento dei casi ispirate a quello che succede a napoli e agli ingredienti tu che ne pensi tutta questa battaglia che c'è stata negli ultimi anni tra pizza contemporanea pizza classica la rota e carretta ognuno ha detto la sua addirittura qualche vecchio interprete della pizza napoletana ha storto il naso facendo anche dei video dicendo che poi la pizza vera era solo quella tradizionale tu in questa vicenda che ne pensi che la pizza deve essere buona principalmente sia una rota di cara una pizza contemporanea l'importante che sia fatta bene questo è quello che per me è la cosa più importante che cosa vuol dire una pizza fatta bene no la pizza fatta bene fondamentalmente l'abbiamo un po imparato tutti è la digeribilità quindi un impasto che ci fa ci dia leggerezza ci dia piacere soprattutto ci consente una bellissima digestione per fare questo sicuramente ci vuole un grande lavoro sull'impasto ma anche un lavoro sugli ingredienti che la vanno a farcire quindi un'ottima conoscenza della materia prima della selezione della materia prima è ovviamente tutto rifinito con un'ottima cottura perché un grande impasto deve essere giustamente valorizzato da un grande fornaio forno può essere anche non a legna certamente perché no guardiamo insieme le immagini del 2017 la prima edizione di 50 top pizza logicamente già ben organizzata ma sicuramente in una situazione meno importante rispetto a quella di oggi però Barbara a me questo impressionato in sette anni siete diventati leader in un settore quello della comunicazione no gastronomica della pizza che è inflazionatissimo tutti vorrebbero dire la loro come avete fatto qual è il segreto del vostro successo ma sicuramente la qualità del progetto la qualità sia editoriale noi offriamo un servizio gratuito ai nostri lettori lo facciamo grazie al sostegno di alcune aziende che sponsorizzano la guida ma è un rapporto di piena libertà editoriale io credo sia io che insieme ai miei colleghi Luciano Pignataro ed Albert Sapera abbiamo una lunga esperienza nel mondo del giornalismo gastronomico e della critica enogastronomica e l'abbiamo messo a servizio di questo progetto facendo qualcosa come noi avremmo voluto leggerla un punto di vista indipendente poi per carità si può essere d'accordo su alcune scelte o meno ognuno ha i suoi gusti. E com'è nata l'idea di creare 50 top pizza? Ma l'idea è venuta durante un nostro viaggio negli Stati Uniti qualche anno prima la prima edizione è stata il 2017 come dicevi ma questo progetto è iniziato a andare un po' nelle nostre teste già dal 2014 organizzavamo degli eventi all'estero fuori dall'Italia sempre per raccontare le eccellenze gastronomiche campani all'epoca e ci siamo resi conto negli Stati Uniti che credevano effettivamente che la pizza fosse un loro prodotto che anche c'è anche una ragione d'essere questa cosa ma chiaramente da essendo diciamo campani vedendo in Napoli la patria della pizza questa cosa un poco ci faceva insomma preoccupare più che altro perché gli americani hanno un sistema di comunicazione potente sono capaci di raccontare sotto forma appunto spesso di classifiche in modo anche molto programmatico poco dedicato all'ego dei protagonisti ma molto a quello che è il mezzo di comunicazione a incuriosire i lettori quindi hanno un sistema comunicativo diverso e abbiamo pensato se non lo diciamo noi da italiani da campani da napoletani che cosa quali sono le migliori pizze del mondo lo farà prima o poi qualche americano qualche network americano con una grande forza e quindi abbiamo detto noi siamo la pizza vogliamo raccontare al mondo cos'è la pizza anche perché nell'ultima edizione quella del 2024 sono arrivate a Napoli pizzaioli da tutto il mondo già solo questo è un indotto incredibile per cento noi abbiamo premiato le 100 migliori pizzerie del mondo di cui una quarantina italiane le altre 60 dal resto del mondo dall'asia dal sud america dagli stati uniti sì nella top ten c'è una pizzeria giapponese che più volte è stata premiata una testa a tokyo veramente un modello molto particolare quello della che nella nostra numero uno a tokyo ed è una pizzeria all'interno del mandarin oriental con un modello un po stile banco del sushi quindi a un banco con pochi posti fa vari servizi ovviamente durante la serata e tutti gli assaggi di pizza vengono realizzati di fronte all'ospite veramente un modello particolare che ci fa capire come la pizza può essere interpretata in tanti modi diversi di recente c'è l'esperienza di confine a milano che sta abbinando la pizza dei vini incredibili e sta avendo un grande successo però ti faccio fare un po la cattiva tu pensi che questa grande diffusione anche del turismo a napoli perciò l'apertura sterminata di nuove pizzerie possa inflazionare e ci sia bisogno di creare o meglio di ridare vigore a un marchio pizza in modo che non può essere che ognuno si sveglia la mattina e si inventa pizzaiolo allora adesso attualmente il mestiere di pizzaiolo non è diciamo non si arriva a fare il pizzaiolo attraverso un percorso formativo istituzionalizzato come quello che può essere attraverso la scuola pubblica la scuola alberghiera esistono dei corsi molto molto validi che preparano tante volte essere pizzaiolo è stato origine di un'attività di famiglia quindi quasi ereditato come mestiere ma i corsi attualmente sono molto professionalizzanti entrano proprio nel dettaglio anche chimico delle farine e degli impasti io credo che il pub la differenza la faccia molto la qualità del prodotto che si offre perché è vero che in questo momento ci sta un'espansione dei progetti pizzeria ma non solo a napoli questo un po tutta italia dovuto a tanti fattori anche di tipo di un po di recessione economica diciamo da negli ultimi dieci anni sono successe tante cose nel panorama del mangiare fuori casa questo non solo in italia assistiamo a dei fenomeni simili anche in altre parti del mondo c'è un po una crisi della ristorazione di un certo livello le pizzerie si sono attrezzate in questi anni a fornire dei servizi dei plus ai propri ospiti quindi non solamente alla pizzeria come eravamo abituati a immaginare che era un mangiare veloce pizze birra e vai via ma una vera e propria esperienza con vini con un percorso un po più articolato che accontenta anche una clientela che vuole uscire e spassare qualche ora e non solamente una cosa veloce quindi oggi la qualità premia perché tante pizzerie che nascono senza avere alle spalle progetti imprenditoriali serie progetti gastronomici serie quindi una qualità del prodotto possono attirare per un po di tempo o meno reggono la concorrenza è grande il pubblico è sempre più abituato a mangiare due domande velocissime pesi pizza di biatore che ne pensi beh io sono stata protagonista di una puntata di report insieme ad albert sapere proprio abbiamo fatto una visita un accesso in anonimato alla pizzeria di biatore a roma sicuramente è un progetto in cui la pizza è un pezzo di un progetto ristorativo nello stile di biatore quindi adatto a una clientela sicuramente che vuole qualcosa di un'esperienza particolare la pizza a me non ha particolarmente colpito e questo insomma è la tua pizza preferita la pizza preferita a me la napoletana piace molto la pizza napoletana in generale la provola e pepe per me è una cosa in questo periodo perché poi si va anche a periodi questo periodo la provola e pepe resta una pizza per me molto cara grazie e barbara guerra complimenti per 50 top pizza veramente mi è piaciuta molto l'idea di dire è una cosa nostra ce la giudichiamo noi non ci facciamo giudicare come al solito dagli altri che questo provincialismo che a volte a napoli abbiamo davvero complimenti grazie a voi per averci seguito restate sul canale 77